Il Cerchio Cromatico di Genova in collaborazione con App Art di Badalucco presenta artisticamente due. Si tratta di una rassegna di arti visive ospitata dalla Badalucco Art Gallery che propone 80 opere di 30 artisti provenienti da tutta Italia. La mostra resterà aperta al pubblico a Badalucco in via Mario Bianchi fino alla fine di luglio. Fra gli artisti presenti anche gli imperiesi Monica Perelli, Benedetta Scarato, Silvana Cannas e Paola Bonsignore. Badalucco, splendido borgo della Valle Argentina, ancora una volta mantiene fede al suo titolo di paese dipinto, quindi strettamente legato al mondo e al fascino dell'arte.